Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Enrico di UMI Communication School e sono lieto di presentarvi oggi il Master Executive in Neuromarketing, Consumer Neuroscience e Marketing Research. A raccontarlo qui per noi oggi c'è il direttore scientifico del Master, il professor Vincenzo Russo e la tutor la dottoressa Alessa Caponetto. Vi ricordo che potete interrompere con le vostre domande la presentazione in qualsiasi momento attraverso la chat o alzando la mano e vi ricordo di tenere il microfono e il webcam spente. Al termine della presentazione ci sarà un momento dedicato appunto alle curiosità e ai approfondimenti. Lascio dunque la parola al professor Vincenzo Russo e vi auguro a tutti una buona presentazione. Bene, ben trovati. Allora, intanto sembra che sia disteso in un divano, in realtà non è così. Sono in mezzo all'autostrada dopo aver consegnato un progetto di ricerca di neuromarketing all'assessorato regionale in Sicilia Agricoltura e sto correndo a Marsala dove siamo coinvolti in un progetto di rilancio del Marsala Doc. Quindi sono in auto, quindi non è la mia posizione in un divano, ma semplicemente in auto in mezzo all'autostrada. Ma per fortuna oggi le tecnologie ci permettono di fare cose incredibili come per esempio presentare appunto un master online. Allora, intanto per chi non mi conosce, io ho fondato il centro di ricerca, condividiamo appunto le slide, di neuromarketing nel 2008. Quindi diciamo che siamo stati in Italia tra i primi a fondare un centro di ricerca dedicato al neuromarketing in tempi non sospetti, quando ancora non se ne parlava, quando ancora si pensava che il neuromarketing potesse essere una sorta di magia per poter studiare quello che poi in effetti noi misuriamo, ovvero le emozioni delle persone. Dando per scontato che tutti quanti voi sapete che se si vende un prodotto si vende per le emozioni che provoca e tutti i significati simbolici che sono legati appunto alla tematica della vendita. Il problema è a questo punto come si fa a misurare questa reazione. L'abbiamo fatto, io sono un psicologo per tanto tempo, con tecniche classiche, questionari, focus group, interviste, ma mai abbiamo raggiunto la misurazione di quello che effettivamente è un coinvolgimento emotivo, l'engagement se vogliamo utilizzare un tipico termine aziendale. Lo facciamo oggi in maniera molto sofisticata con tecnologie che abbiamo a disposizione, che prima era impensabile avere. Qualcuno parla del neuromarketing come se fosse la macchia è la verità. Sì, in parte, diciamo, discendiamo da quel tipo di approccio, ma l'attrezzatura oggi è molto più sofisticata rispetto a quello che succedeva negli anni 60 e soprattutto c'è una grande differenza che poi caratterizza il nostro master, ovvero la conoscenza del cervello. Quella seconda parola del titolo, Consumer Neuroscience, è fondamentale perché questo è il secondo pilastro del nostro master è finalizzato, questo secondo pilastro, a darci tutte le indicazioni che le neuroscienze hanno prodotto in tutti questi anni riguardo al funzionamento cerebrale e che ci permette a questo punto di essere molto più efficaci nella comunicazione perché abbiamo una migliore conoscenza di come funziona il nostro cervello. Il master allora proviamo a presentarlo nella sua completezza, è un master che intanto vede uno staff formato da me, dal coordinamento di Enrico Sciacchetti e dal tutoraggio di Alessia Caponetto, ma in realtà dietro c'è una facoltà particolarmente articolata e particolarmente complessa. Un comitato scientifico che è formato dai principali player in Italia perché io ho voluto inserire all'interno della facoltà di questo master tutti coloro che bene o male stanno facendo delle cose nel campo del neuromarketing sia a livello nazionale che internazionale. Ecco perché troverete appunto tra vari docenti tutti, ma dico quasi tutti, i responsabili di centri di ricerca o di centri di neuromarketing d'Italia. Se volessimo fare appunto una veloce carrellata però non vorrei stare qui a raccontare quello che fanno tutti questi personaggi, però cito ovviamente Fabio Babiloni che è il fondatore di Brain Science, il centro di ricerca alla sapienza. Diciamo che siamo abbastanza simili come strutture sia in termini di storia sia in termini di importanza. Fabio ha creato il centro di ricerca alla sapienza di Roma tanti anni fa come noi e chi pubblica più in Italia su queste tematiche è proprio lui, per questo per noi è molto importante la collaborazione con tutto il gruppo di Brain Science, che vede coinvolta anche la Patrizia Cherubino, che si occupa appunto di formazione anche in questo campo, ma ovviamente andiamo anche all'estero. Andiamo da Jesper Clement, che è colui che gestisce in questo momento il centro di ricerca alla Copenhagen Miss School, da dove deriva uno dei più grandi esperti di questa tematica, che è Tom Aramsoy, che avremo anche tra i nostri docenti e che presenterò tra qualche istante. La professoressa Balconi, che è un punto di riferimento nella cattolica, alla cattolica, sulle tematiche delle neuroscienze, da noi fan neuromanagement. Saverian Brogetti, colui che ha scritto il libro Emotional Racing, lui quando abbiamo iniziato a lavorare era responsabile fan racing di Unicef Italia, abbiamo fatto un progetto eccezionale sulla comunicazione di Unicef, abbiamo veramente modificato il loro spot pubblicitario in maniera tale da poter renderlo molto più efficace e molto più funzionale. Marco Brusa, manager director di Gruppemmo, una delle più grandi aziende media d'Italia, ma non soltanto sono presenti anche a livello internazionale, e Marco si occupa prevalentemente di tutta la tematica legata al terzo pilastro di questo master, ovvero market research. E quindi in particolar modo l'intelligenza artificiale deputata al market research. E poi, come non citare, il guru a livello mondiale delle scoperte dei neurotrasmettitori del cervello, nonché fondatore di un centro di ricerca in neuromarketing importantissimo in California, ovvero Paul Zak. Paul Zak è colui che ha scritto, qualcuno lo chiama il professor Love, si occupa di ossitocina, di relazioni interpersonali, è colui che ha scoperto la potenza dell'ossitocina. Chiara Basilieri, anche lei un personaggio abbastanza noto in questo campo, si occupa prevalentemente di neuroscienze e personalità e quindi devo dire che ci dà un notevole contributo. Abbiamo anche il coinvolgimento di un, diciamo, dell'ente che è più importante in Italia per le tematiche e le tracking, cioè la Lorena Delvino, che è la responsabile marketing di S&L Labs, che è la struttura che vende in Italia le macchine di eye tracking. Mariano Diotto, vado un po' veloce perché poi li trovate tutti indicati, ma giusto segnalo eventualmente quelli che mi sembrano più importanti a citare, ma lo sono quasi tutti, perché come non si può non citare Roger Dooley da San Diego, ci farà una lezione dedicata al suo libro, uno dei migliori nel campo del marketing, si intitola Brain Influence, anche se l'ultimo Fiction è estremamente interessante e si muove appunto in questi due, a raccontare gli elementi caratterizzanti di questi due libri e poi, come non citare, anche i fondatori dell'associazione italiana di neuromarketing, ovvero Caterina Garofalo e Francesco Gallucci, con cui abbiamo una strettissima collaborazione. In questo momento stiamo pianificando la chiusura del master attuale, che vedeva 20 posti disponibili, in realtà si sono iscritti in 39, di cui la maggior parte aziende o gente che viene dalle aziende. Infatti vedremo che la struttura è stata pensata proprio per permettere ai professionisti di poter partecipare alle attività didattiche, ma anche se è ben visto che tutti coloro che sono interessati, anche dei neolaureati, hanno trovato grande soddisfazione in questo percorso. Abbiamo docenti molto esperti di Consumer Neuroscience, anche a livello internazionale, quindi Tao Liu, dal Shanghai University e dalla Xinjiang University, sono due grosse università vicine tra di loro, in prossimità di Shanghai, e Luca Florentino, che è il fondatore di 8 su 9, che è una delle più importanti agenzie di comunicazione che si serve di tecniche di neuromarketing. Tra l'altro, insieme a Fabio Babiloni, il 17 maggio prossimo organizzano il, certamente si chiama appunto questo convegno dedicato tutto al neuromarketing e che viene rivolto prevalentemente alle aziende. 17 mattina dalle 9 alle 18. Anche noi saremo dentro con i nostri progetti di ricerca e con le nostre sperimentazioni, quest'anno in particolar modo presenteremo un bellissimo lavoro fatto per Zeiss, quelli che fanno appunto le lenti, devo dire molto interessante. Di AINEM devo dire che la collaborazione è estremamente proficua, interessante, poi vi dicevo il master, che in questo momento finirà con i 39 iscritti, si concluderà con il summer camp che si tiene ad Alghero, in neuromarketing, è un summer camp, sono quattro giornate intensive che noi facciamo insieme, che organizza AINEM, ma che partecipiamo anche noi attivamente ad Alghero per parlare fondamentalmente delle ultime ricerche più importanti nel campo delle neuroscienze e business. Il summer camp ovviamente è aperto a tutti dal 31 di maggio al 4 di giugno e abbiamo portato ovviamente a spesa del master tutti i partecipanti del master a partecipare alle giornate di discussione, di lavori, di confronti, pensate che sono iscritti più di 150 esperti da livello appunto nazionale e internazionale e in quell'occasione chiuderemo formalmente il master di quest'anno. Questo lo dico perché chi parteciperà al prossimo master, della prossima edizione, sicuramente prevediamo appunto la chiusura. Lo scorso anno l'abbiamo fatta a Ragusa dove si è aperto un nuovo centro di ricerca voluto da una studentessa nel nostro master all'interno appunto di un ente pubblico che si chiama Corfilac. Quest'anno siamo al summer camp di Alghero, beh il prossimo anno probabilmente torneremo al summer camp potremmo anche scegliere qualche altra attività particolarmente importante. Nick Carson, anche lui molto importante nel campo delle neuroscienze, si occupa di sensorialità e neuroscienze insieme ad una nostra ex tirocinante che poi è diventato un punto di riferimento in Lituania per le parti, per la parte di Neuromarket. Si chiama Egle, il cognome non lo dirò mai ma questo abbiamo fatto un accordo ormai tra di noi perché è impronunciabile per me per cui la chiameremo sempre Egle. Fanno parte ovviamente sempre della docenza, vado a Tom Arams, ovviamente non possiamo non citarlo, il fondatore e il CEO di Neuron, sono le più grosse agenzie di ricerca di mercato di neuromarketing a livello europeo ma anche mondiale visto che ha centri in tutta Europa. Abbiamo una bellissima collaborazione, mandiamo anche i nostri PECD, i nostri studenti a fare l'attività di stage presso il suo centro, così come è importante anche Carlo Aldrini come Vice President di Ipsos che tra l'altro gestisce un Shopper Lab che è un laboratorio di neuromarketing, in realtà è un vero e proprio supermercato che però mi permette di misurare tutto quello che ha a che fare con l'esperienza emotiva mentre si fa retail. Andrea Staletti è colui che ha scritto uno dei magnifici libri sul web e neuromarketing, neuromarketing e scienze cognitive per vendere più sul web, che è un libro eccezionale, un professionista che lavora in questo campo da tantissimi anni, e Christophe Moren che è un altro ai più grandi esperti a livello mondiale, fondatore di SalesBrain che è uno dei centri di ricerca in neuromarketing più importanti americani. Elena Sabatini è la fondatrice di Beside che è un centro di neuromarketing che è nato lo scorso anno a Bologna, Giovanni Pola, CEO di una delle più importanti agenzie di progettazione e gestione di soluzioni digitali che si serve tantissimo di neuromarketing. Insieme ovviamente ad aziende, noi coinvolgiamo non soltanto personaggi come quelli che ho citato, ma anche le aziende, per esempio Omnicom è una di quelle che avete intervisto tra i vari docenti e poi abbiamo il nostro gruppo di persone che lavorano nel laboratorio dell'Università U. A questo ovviamente si integrano i nuovi arrivati, abbiamo Marco Bilucagli il nostro bioingegnere, Lassano Fischi il nostro dottore di ricerca e Riccardo Valesi che è diventato dopo essere stato da noi PhD student ricercatore a Bergamo, ma che continuerà a lavorare con noi. Il master, il master perché è importante? Non ho voluto perdere tempo, ho voluto segnalare la facoltà, questo perché? Perché molte volte non si dice mai chi insegna nei master, io credo che sia importantissimo far capire chi insegna nel master, perché chi insegna deve portare non quello che si è letto nei libri degli altri, ma è quello che ha fatto e che racconta lui nei suoi libri. Ecco perché io sono abbastanza critico nei confronti di chi organizza master senza avere persone che sanno fare queste cose e che fanno queste cose. Ecco perché ho voluto spendere un po' di tempo per discutere appunto della partecipazione dei docenti. Ovviamente non sono tutti quanti docenti, per esempio alcuni con cui stiamo contrattando, uno tra tutti è Brian Knudson, professore alla Stanford University, con cui stiamo definendo le modalità di partecipazione, ma sono soltanto alcuni dei docenti che fanno parte appunto della nostra squadra. L'inizio è il primissimo di ottobre, la durata è appunto di diversi mesi, come vedete noi facciamo lezioni dalle 18 alle 20 e 30, il martedì, mercoledì e giovedì. Questo ovviamente per poter permettere alle persone di seguire il corso del corso. C'è qualche messaggio che mi è arrivato che le slide non sono condivise, mi sembra strano. No Vincenzo, vediamo te. Vedete me? È strano perché mi dà l'indicazione che è condivisa. Scusate un attimo, vediamo un attimo che è successo. Ok, proviamo a ricondividere. Qualcuno ha modificato il mio ruolo. C'è un messaggio che dice il tuo ruolo è stato modificato, quindi chiedo alla scuola di comunicazione di reinserire il mio ruolo. Grazie. Eccoci qua. Adesso si vede, Vincenzo. Perfetto. Intanto sento le voci di Enrico Cecchetti che è il nostro coordinatore. Allora, dicevamo, abbiamo 72 ore in presenza e in totale 280 ore, 86 ore complessive. Nel senso che, considerando le attività che noi facciamo in lezioni teoriche, considerata appunto l'attività laboratoriale, vi ricordo due settimane, una settimana a novembre e una settimana a marzo, si è presenti dal lunedì al venerdì a fare, a sporcarsi le mani con le attrezzature, cioè si lavora su progetti veri e concreti, come si mettono gli eletti encefalogrammi, come si mettono tutti gli strumenti che noi adottiamo. Ma continuiamo ancora con la presentazione. Qual è la finalità del master? Ma fondamentalmente è quella di preparare le persone a lavorare sia nel campo del neuromarketing, ma a gestire queste informazioni e queste conoscenze in maniera integrata con tutto quello che è la consumer science da una parte, quindi le nuove conoscenze del cervello e di scienze cognitive ci dicono per poter rendere molto più efficace la comunicazione da una parte. Dall'altra anche market research con indicazioni di principi di base di ricerca tradizionale che va integrata con le tecniche neuro in più tutto ciò che offre l'intelligenza artificiale. Questo è un modulo che è quello finale in cui la tematica dell'intelligenza artificiale prestata alle ricerche di marketing è fondamentale per avere dati sempre più affidabili e funzionali. ecco qui ora c'è il video, spero che si veda, vista appunto la mia linea che non è delle migliori, ma questo è un video in cui si intravede quello che in qualche modo facciamo. Grazie a tutti. Bene, spero che si sia visto, in ogni caso la presentazione verrà resa disponibile, quindi scaricabile, comunque fruibile, per cui se è sfuggito qualcosa potrete sempre riprenderla. Quali sono gli obiettivi allora appunto più specifici? Primo, acquisire conoscenze intanto sul funzionamento cerebrale e come queste conoscenze stanno modificando il marketing. Oggi si parla di intuitive marketing, è l'ultimo libro scritto da Steven Jenko, che è uno dei più grandi esperti in neuromarketing, è scritto tra l'altro Neuromarketing for Darmis tanto tempo fa. Intuitive marketing è il nuovo approccio che integra le conoscenze classiche con quelle che le neuroscienze stanno portando sul campo. Quindi da una parte la conoscenza del cervello, la consumer neuroscience e a questo punto gli strumenti di neuromarketing. Quali sono? Come si possono utilizzare? Quelli che portano difetti? Perché bisogna parlare anche di questo, cioè raccontare quali sono i problemi che molte volte questi strumenti ci pongono per evitare che poi se uno ha un centro di ricerca o lavora in un centro di ricerca, beh, sa quali sono appunto i principali problemi che può riscontrare con la strumentazione, con i protocolli e con le metodologie di ricerca. Ecco pertanto che le metodologie di neuromarketing, come si fa un protocollo di ricerca, come si trasforma un brief da parte di un'azienda in un protocollo, in un'acquisizione, in un dato, cosa che voi acquisirete anche durante la fase laboratoriale, nella prima settimana e nell'ultima settimana in presenza in laboratorio presso la JURM. Ovviamente l'integrazione con le strategie di marketing classiche e le tecniche di indagini classiche è fondamentale per poter preparare delle persone con quale obiettivo? Ma allora, da una parte esperti di neuromarketing puro, cioè persone che sappiano lavorare dentro un centro di ricerca o dentro un'azienda che faccia tecniche di neuromarketing. Dall'altra, ed è quello che noi riscontriamo sempre più dalle aziende, è avere una persona all'interno che sappia parlare di neuromarketing, sappia interloquire con la consulenza di neuromarketing, perché le aziende che ormai hanno capito che il neuromarketing è fondamentale per poter fare le analisi dei loro prodotti, spot lucitari, packaging, scaffalo, quello che sia ambienti, ristoranti, hanno bisogno di persone che sappiano capire se un'agenzia, se un risultato una ricerca, se uno strumento è efficace o meno. Ecco perché accanto a esperti in neuromarketing puro, sia di laboratorio che di progettazione, questo è un percorso che prepara o migliora anche, perché molte delle persone che si iscrivono al nostro master sono iscritte al master per riposizionarsi all'interno dell'azienda, perché acquisiscono competenze per esempio di packaging design, oppure perché diventano esperti di consumer behavior e neuroscience. Comunque le tematiche sono legate anche all'advertising, noi lavoriamo tantissimo con gli spot lucitari, anzi oggi lavoriamo non solo con gli spot, ma anche con gli animatica, con gli storyboard, per renderli molto più efficaci prima che un'azienda spenda quel mezzo milione che deve spendere per poter andare a un AIR per due settimane nei canali principali della RAI, per esempio. Attenzione perché c'è anche tutta un'area relativa non solo alla conoscenza delle dinamiche pubblicitarie, ma anche quelle di vendita. C'è tutto un filone di neuroselling, così come anche di neuropolitica che può essere tranquillamente trasportata da questo laboratorio, da questo master all'esperienza professionale. Esistono molti progetti in neuropolitica, pochi ne parlano perché non molti politici vogliono far sapere che usano anche tecniche neuro, però si usano anche tantissimi in questo campo, quindi diciamo che le applicazioni sono veramente infinite. Tutte le volte che ci chiedono, ma voi dove lavorate? Noi siamo trasversali, perché lavoriamo dall'azienda che deve vendere un prodotto caseario fino ad arrivare al museo che deve colpire emotivamente una persona. Passando per il neurocinema o per la neuropolitica, cioè dove c'è un'emozione o c'è un engagement, noi possiamo tranquillamente lavorare. E allora a chi si rivolge il master? Allora noi il master abbiamo pensato per i professionisti che già lavorano, altrimenti non si spiegherebbe perché dalle 18 alle 20 e 30, però essendo questo l'unico master così strutturato, con una quantità di docenti a livello internazionale, con una organizzazione così articolata, molti neolaureati sono anche interessati, perché è un canale che porta ad un nuovo modo di affrontare il mondo del marketing di grande e di estremo interesse. Ecco perché noi abbiamo ovviamente un percorso che è stato pensato per i professionisti, molto pratico, operativo, con esempi, con sperimentazioni, con project work, con case history, con aziende che portano testimonianze, ma ovviamente questo è interessante anche per gli studenti, per i neolaureati. Noi abbiamo le 200 ore teoriche, dalle 18 alle 20 e 30, da martedì al giovedì, ma abbiamo a questo aggiungiamo anche le 72 ore di laboratorio, quindi in presenza da noi, nella fine novembre e a marzo, e poi ricordiamoci sempre la chiusura in un evento come quelli che ho citato prima, per esempio il summer camp. I moduli, cerchiamo di comprendere il percorso, perché abbiamo poco tempo, per cui non vorrei ripetere cose che sono anche scritte. Abbiamo i dieci moduli, che sono questi che ora vediamo velocemente. Il primo è sulla consumer neuroscience, cioè la base per poter affrontare le tematiche del marketing intuitivo. La conoscenza del cervello, cervello e marketing sono tutti appunto un approfondimento che facciamo anche con i migliori esperti a livello mondiale per raccontare che cos'è la consumer neuroscience e che quale contributo ci dà la conoscenza del cervello. Il secondo modulo è applicativo. Una volta che conosciamo come funziona il cervello, come si trasforma questo in strategie di marketing innovative rispetto al passato? Ora capite bene che questo tipo di modulo, questi moduli ci permettono non solo di avere esperti di neuromarketing, ma di avere esperti di marketing con competenze neuroscientifiche. Quindi si apre un fronte che permette a chi si sta riposizionando di riposizionarsi con una competenza che pochi hanno. Per chi si sta posizionando sul mercato in maniera innovativa si troverà un coté di conoscenze che gli altri non hanno, soprattutto in azienda. Le aziende incominciano a percepire quelle competenze come delle competenze estremamente interessanti da permettere una differenzazione nel mercato. Il terzo modulo ovviamente andiamo sempre più a verticalizzare le conoscenze, sensorialità e percezione ed emozione. Il collegamento tra tutto ciò che viene percepito e ciò che viene poi rilevato dal nostro sistema cerebrale è influenzato alle emozioni. Questo è uno dei moduli più importanti della parte iniziale del master. A questo punto, dopo aver avuto una base solida su come siamo fatti, sulle applicazioni, sulla percezione, sul funzionamento cerebrale, possiamo passare a studiare, a lavorare gli strumenti, il neuromarketing e tutte le innovazioni, perché noi in questi 15 anni di lavoro le abbiamo provate tutte. Vi racconteremo tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato. Partiamo addirittura come elettrodo nel nostro scalp. Oggi siamo a 52 canali, quindi da un elettrodo a 52 capita che di passaggi ne abbiamo fatti tanti. Quindi sappiamo punti di forza e punti di debolezza di una buona parte dell'attrezzatura che viene venduta nel mercato e di questo ovviamente ne parleremo. Parleremo di come si estrapolano i dati, su come da un elettroencefalogramma 52 è possibile calcolare l'engagement cognitivo, la memorizzazione, la disponibilità all'acquisto, l'emozione, ovviamente misurando non soltanto con l'elettroencefalogramma quello che succede nel cervello di una persona, ma misurando anche il suo corpo. Vi ricordo gli strumenti di neuromarketing sono biometrici e neurometrici. La parte B ha a che fare col corpo ed è fondamentale perché per esempio noi col battito cardiaco e la sudorazione delle mani possiamo tirare fuori un indicatore che si chiama emotional index che passa direttamente dal sistema limbico, reazione istintiva immediata in 13 millisecondi, al nostro corpo. Non c'è razionalità, ma c'è il buono, non buono che ci fa capire se un prodotto è funzionale o meno alla vendita. Il quinto modulo è relativo alla metodologia. Non basta avere strumenti, bisogna avere competenze di progettazione, di protocolli di ricerca, campionamento, baseline, come costruire gli stimoli distrattori, come presentare gli stimoli. È tutta una procedura molto rigorosa che poi ogni centro detiene come secretezza. In realtà facendo un master e chiedendo ai partecipanti, ai fondatori, ai condottieri degli altri centri di ricerca, di raccontare i loro piccoli segreti di gestione della metodologia. Il sesto modulo è un pochino più specifico sulle applicazioni di neuroeconomia. Quindi andiamo sul quello che le neuroscienze ci hanno detto di economia, di finanza, di branding. Quindi dobbiamo sempre mixare la parte tecnologica, la parte strumentale con quella poi di conoscenza del cervello che si integra di conoscenze ogni anno sempre di più. A questo punto partono i moduli dedicati alle singole applicazioni. Neuromarketing ed esperienza digitale. In questo caso una grande mano d'aiuto ce la dà Andrea Saletti. Il neuromarketing e la pubblicità. E qui diciamo che racconteremo quello che noi facciamo con aziende come Casberg, come Tecnogym, come Lavazza e tante altre aziende con cui noi collaboriamo. Ovviamente il packaging. Vi dicevo in questo momento mi trovo in piena autostrada tra Palermo e Marsala dopo aver presentato all'assessorato regionale alla pesca un progetto appunto sull'ittico che sarà oggetto anche di riflessione comune e sto correndo verso Marsala dove facciamo una riflessione su come rilanciare il Marsala in Italia. Ovviamente con una modifica che non è soltanto una strategia di marketing, ma anche una strategia di sapori e ovviamente anche di etichette di bottiglie. Quindi il packaging è estremamente fondamentale. Sempre più dalla pubblicità si va anche sul field. Il field significa retail. Lavoriamo tanto con Conad, abbiamo lavorato per PAM, abbiamo lavorato per SELunga. I centri di distribuzione sono fondamentali, così come per esempio anche la ristorazione, i luoghi di ristorazione, gli ospedali, oppure ancora i musei dove c'è appunto una dimensione esperienziale, cioè il mondo, possiamo fare delle analisi un pochino più specifiche. Abbiamo addirittura creato un piccolo Neuro Retail Lab, ci sono 6 metri lineari di scaffalatura a destra e a sinistra che producono quasi 30 metri lineari di scaffalatura dove di volta in volta andiamo a posizionare dei prodotti e facciamo delle sperimentazioni come quelle che intravedete in questa slide. Ovviamente quando si lavora in retail è sempre meglio andare in retail, però noi abbiamo diverse opzioni, possiamo lavorare in retail, possiamo lavorare dentro il nostro laboratorio che riproduce gli scaffali, possiamo lavorare con gli scaffali digitali o anche virtuali. Con la virtual reality oggi è possibile costruire degli scaffali virtuali e poi far fare un'esperienza in virtual reality, visto che abbiamo anche degli Oculus con dentro l'iTracker, che è un modulo molto particolare che vende la Tobi, la più grande azienda di e-tracking, che ci permette di fare anche delle sperimentazioni di questo tipo. Molto interessante perché ha più in fronte anche alle applicazioni di virtual reality. Ovviamente quando si parla di field, si parla di field a tutto tondo. Beh, più tondo di così si muore, anzi ovale. Siamo a San Siro, vi faccio vedere se si vede bene questo lavoro che abbiamo fatto per la Lega Calcio Sene A e Gruppe M per misurare l'efficacia della comunicazione pubblicitaria mentre una persona guarda una partita sia a San Siro oppure da casa. Un grossissimo progetto che ha visto diversi gruppi di lavoro sia a casa, abbiamo affittato addirittura un appartamento per fare vedere delle partite a un gruppo di telespettatori e poi misurando anche la loro reazione in field, cioè allo stede San Siro. Ecco qui un filmato che fa vedere un po' quello che abbiamo fatto. E' un appassionato di calcio, buonasera, benvenuti. Questo è Milano, questo è San Siro. E' una delle sfide classiche del calcio italiano e mondiale. Lo stadio strapieno in ogni ordine di posto. Due squadre in torno. E' pronto dentro che si può calciare. E' il pari del Milan alla 43. E' un appassionato di calcio. Ecco qui, questo è un progetto estremamente interessante che discuteremo anche con chi ci ha partecipato. Big Data e Consume di Neuroscience, vi dicevo appunto l'ultimo modulo dedicato anche all'integrazione delle nuove tecnologie, dell'integrazione artificiale con quelle appunto che sono i principi del market research classico. I laboratori sono appunto due settimane, come vi dicevo, sono a novembre e a marzo. Si lavora su casi reali. L'obiettivo è quello di dare all'aula la capacità di trasformare un brief aziendale in un disegno di ricerca con tanto di utilizzo poi di somministrazione degli stimoli, degli strumenti, raccolta dei dati, elaborazione del dato e restituzione all'azienda. Cioè il percorso completo. Cosa succede quando uno prende un brief e cosa succede durante l'acquisizione, alla fine e alla consegna. Qui si intravedono i nostri ragazzi del master di quest'anno e che stanno lavorando su alcuni progetti. Ecco qua. Bene, questa è la presentazione a punto generale. Siamo perfettamente in tempo. Dovremmo avere una testimonianza da parte di Greta Ronni, che è entrata a far parte del nostro gruppo di lavoro. Era lo scorso anno studentessa del master, oggi è entrata in forza nel nostro laboratorio. Lo scorso anno abbiamo fatto aprire il master, cioè abbiamo fatto fare la presentazione ad una ragazza che era stata assunta da B-Site. Quest'anno abbiamo detto, visto che abbiamo attivato i contatti di ricerca a Greta, facciamo parlare a Greta, riguardo appunto alla sua testimonianza di quello che ha fatto in questo anno e cosa sta facendo in questo momento. Non so se è già collegata, intanto mi sgancio. Ecco, non mi vedevo. Perfetto. Ciao Vincenzo, sono qui, sono collegata. Ti ho visto, ti ho visto. Sto bene, raccontaci un po' come è andata quest'anno e come è. Intanto buongiorno a tutti, appunto io sono Greta Rondi. Ti sento male. Ti sentiamo? Noi ti sentiamo. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti, appunto io sono Greta Rondi e ho iniziato il mio percorso qui alla Yulm, proprio dal master in neuromarketing. Io ho una formazione in neuroscienze, mi sono laureata l'anno scorso e mentre stavo completando il mio percorso di laurea, ho deciso appunto di iscrivermi e frequentare questo master in neuromarketing, che ho trovato molto formativo, diciamo è stato un po' inizialmente un po' un salto nel buio. Non sapevo benissimo se sarebbe stata effettivamente poi la mia strada, ma devo dire che poi l'idea iniziale è stata confermata. Durante il master ho approfondito tutti i diversi argomenti, particolarmente formativa è stata proprio la settimana che inizialmente era prevista una settimana quando l'ho fatta io, adesso è stata aumentata a due e devo dire che è stata veramente molto formativa, perché dà proprio un'idea completa del percorso e di quello che si fa effettivamente all'interno di un laboratorio di neuromarketing, di quello che cosa vuol dire effettivamente fare neuromarketing. Dopo questo percorso all'interno del master ho deciso di chiedere la possibilità anche di rimanere all'interno del laboratorio per fare un percorso di tirocinio più professionalizzante in psicologia. Dopodiché appunto mi è stato chiesto di rimanere e devo dire anche che mi sto trovando benissimo, perché appunto questo laboratorio, questo centro di ricerca offre veramente un sacco di opportunità. Io sono qui appunto da un anno e in un anno ho visto una serie veramente indescrivibile di progetti che spaziano davvero dagli spot agli studi di retail, siti web, social, packaging, analisi veramente di ogni tipo, non ci si annoia assolutamente. E' veramente stata un'opportunità fantastica davvero, cioè non lo dico proprio perché solo per promuovere il master, ma veramente lo penso davvero. E il master è un'opportunità formativa per tutti, anche non solo per chi poi si fermerà a fare effettivamente studi nell'ambito specifico del neuromarketing, ma da veramente conoscenze che possono essere spendibili in tantissimi ambiti, a prescindere poi da quale sia quello specifico in cui si lavora. Sono proprio conoscenze utili a prescindere anche solo per conoscenza, per interesse personale, ma hanno davvero un'applicabilità in tantissimi, tantissimi campi. Quindi mi sento veramente di consigliarlo. Bene, grazie Greta. Greta, quanti progetti hai eseguito? Il numero, dai un numero da quando sei entrata in laboratorio. E' molto difficile, tanti veramente, perché ce ne sono alcuni un po' più grossi, un po' più impegnativi, ma ce ne sono tanti che hanno richiesto molto tempo, ma tanti altri che magari adesso non mi vengono neanche più in mente, che sono durati un po' di meno, ma appunto contribuiscono a tutta questa grande varietà di progetti che ti formano e ti permettono di acquisire un'esperienza veramente pazzesca. Non saprei quantificare, sinceramente. Penso, non lo so, 20, 30, non lo so. Non riesco a quantificare in questo momento, però tanti. No, devo dire che noi abbiamo creato anche un sistema per cui lavoriamo. Io dirigo alcuni master, uno è in Funding Communication, uno solo come se lo sport, anche se poi questo qui è quello che più mi piace e che seguo perché la parte più innovativa è più interessante. Però tramite gli altri master noi abbiamo la possibilità di lavorare con le aziende negli altri master, offrendo delle piccole soluzioni, quindi la possibilità di innescare un meccanismo virtuoso in cui il coinvolgimento di aziende, per esempio il food del master in Funding Wine, che viene e ci presenta il problema, e noi con il centro di ricerca supportato anche dai fondi ai master riusciamo a fare delle cose in cui le persone che lavorano nei master imparano, ebbè è la nostra missione. Quindi abbiamo creato un sistema virtuoso per cui un master non è soltanto un'isola separata dal resto dell'università, ma è integrata nell'università permettendo di fare della ricerca alla didattica e della didattica alla ricerca. Questo è l'elemento che ci differenzia. Grazie, grazie Greta. Visto che abbiamo qualche minuto, io direi abbiamo... Allora, noi in questo momento facciamo le selezioni, stiamo facendo, cercando di intercettare dei curricula che siano legati intanto un minimo di competenze in questo campo, ma visto che è un master che prepara poi anche per riposizionarsi, diciamo che prendiamo in considerazione anche curricula di persone con competenze diverse. Ci interessa capire la motivazione, ecco perché facciamo dei colloqui e dopo il colloquio abbiamo il tempo di poter bloccare il posto. Noi lo scorso anno avevamo 20 posti disponibili, in realtà ne abbiamo potuti inserire 39 con un'utilizzazione da parte del rettore a un patto. Ovviamente 39 o 150 non fa differenza online, ma fa differenza seguire 39 persone, e soprattutto portare il laboratorio. Ecco perché noi abbiamo diviso poi... Noi facciamo intanto due settimane, come diceva Greta, rispetto alla prima edizione, ma addirittura per noi sono molte di più le settimane, perché dividiamo il gruppo dei 39, in questo caso in due sottogruppi da 20, per mantenere sempre l'attività didattica di apprendimento facile, chiara e equivalente per tutti. Quindi dobbiamo lavorare con piccoli gruppi. Anche quest'anno non penso che supereremo numeri particolarmente ampi, saremo sempre su quei numeri, però dobbiamo bloccare i posti, per cui avendo già tanti prescritti, le prescrizioni si concludono, se non ricordo male, il 15 settembre, però io come lo scorso anno, il 15 settembre, abbiamo già chiuso l'aula qualche settimana prima, per cui chi è interessato conviene procedere alla prescrizione e dalla prescrizione si fa la possibilità, il colloquio di selezione o di orientamento. Attività di stage, non l'abbiamo citato, questo è un master executive che non ha l'obbligo dello stage, però visto appunto il contesto in cui noi lavoriamo, lavoriamo ripeto con tante aziende, lavoriamo con tanti master, i master danno anche benzina nel senso operativo del termine, cioè progettualità, la possibilità di avere aziende che ci chiedono persone esperte in marketing e in neuromarketing con quelle competenze che sono sviluppate è abbastanza frequente, per cui anche se il master è un executive noi creiamo le condizioni per l'attività di stage per chi ovviamente ce lo chiede, per cui i neuro laureati che ce lo chiedono. Ecco, io a questo punto magari non so se c'è Enrico che vuole aggiungere qualcosa o Alessia o darei la parola a qualche domanda, a qualcuno che vuole qualche chiarimento da fare, da avere. No, Vincenzo, per me hai anticipato quanto volevo affermare relativamente all'osmosi con gli altri master che seguiamo e direi che proprio era la sfumatura che avrei voluto completare, per cui per me è sufficiente. Allora, domande, considerazioni, dubbi? Potete rivedere la presentazione perché è stata registrata, quindi verrà le sei disponibile e anche le domande se volete farle anche via chat. Vincenzo, relativamente agli study tour abbiamo accennato, io forse il pezzo iniziale non l'ho sentito. Allora, in questo master lo study tour è quello finale, nel senso che noi organizziamo la chiusura del master che diventa una sorta di study tour. Quest'anno lo facciamo appunto al Summer Camp di Alghero, quattro giornate di convegni, seminari, dibattiti presso la sede universitaria di Sassari, tutto organizzato da AINEM e noi paghiamo a tutti i partecipanti il viaggio, il pernottamento, il vitto e tutta l'esperenzialità e l'iscrizione ovviamente a questo evento, a questo convegno. abbiamo fatto anche un accordo con Certamente per poter permettere ogni anno ai nostri partecipanti ai master di partecipare a Certamente ad un prezzo super agevolato che è proprio veramente molto conveniente, per cui anche questo è un servizio che abbiamo offerto noi. ovviamente quando si partirà verranno consegnati un kit di introduzione al mondo del master, al mondo del neuromarketing, ci saranno appunto alcuni testi scritti da me che fa parte del pacchetto master. Per lo study tour è finale l'ultimo giorno, gli ultimi giorni, l'anno scorso l'abbiamo fatto come diceva a Ragusa dove Katia Pasta che è stata una partecipante al master professionista che già lavorava al Corfilac, il centro di ricerca agroalimentare della regione siciliana, ha voluto creare un centro di ricerca, ha seguito il master, l'ha creato, l'abbiamo creato insieme con una sorta di gemellaggio e questa mattina già alle 9 lavoravamo su un progetto che ha a che fare appunto con il rilancio di alcuni formaggi del meridione. Bene, domande? Tutto è chiaro? Sembra di sì. Ciao, io sono Giulia, avrei una domanda se posso. Prego Giulia. Allora io volevo chiedervi questo, siccome sono interessata a questo master, l'avevo già visto lo scorso anno, poi causa un po' lavoro, insomma ho rimandato ecco a quest'anno, però volevo chiedervi questo, io a livello di background diciamo ho studiato economia sia laurea triennale che magistrale e poi ho fatto diciamo un master su un istituto privato che riguardava diciamo digital marketing, comunicazione, però poi non ho approfondito questo ambito dal punto di vista lavorativo, nel senso che attualmente è da un paio d'anni che lavoro ambito consulenza aziendale e diciamo ambito finance e processi aziendali, ecco miglioramento di processi aziendali, quindi diciamo così forse è un po' un background un pochino distante rispetto magari alle tematiche che diciamo verrebbero affrontate nel master e quindi diciamo la mia domanda è se questo tipo di percorso pregresso potrebbe essere magari un po' limitante rispetto magari a dei percorsi diversi come citavate prima ad esempio in neuroscienze piuttosto che psicologia o magari marketing anche più dal punto di vista applicato all'ambito lavorativo Allora Alessia mi conferma che mi sentite perché io sento ogni tanto male Allora no, anzi direi che un percorso come questo è molto attinente col master anche perché molte, intanto abbiamo proprio un modulo di neuroeconomia quindi per far capire quanto tutto quello che si è fatto in termini di studi sui processi adizionali d'economia è fondamentale quindi anzi direi che è uno dei curricula che è coerenti con il master, il master ha delle coerenze che sono tutte sue, che sono legate alla psicologia e alla comunicazione, al marketing, all'economia per esempio chi ha una formazione in lingua e lettere straniere la vede un po' più in difficoltà ma una formazione in economia con la possibilità di lavorare tra l'altro nel campo della finanza c'è tutto un filone di neuro finance che noi stiamo seguendo di grandissimi interessi assolutamente coerenti anzi direi che è proprio uno dei curricula più interessanti anche perché il marketing chi fa economia ha fatto anche marketing tutte le tematiche della microeconomia è fondamentale per cui non vedo incoerenze anzi in tutt'altro Ok, grazie mille Bene, diciamo che se ci sono altre domande, in ogni caso noi rimaniamo sempre contattabili ci sono appunto le email, i nostri indirizzi email, Alessia risponde velocemente per cui per qualsiasi domanda, qualsiasi chiarimento sapete dove trovarci vi segnalo appunto che stiamo procedendo con la costruzione dell'aula siamo già a buon punto, quindi chi è interessato anche per bloccare il posto chiediamo appunto di accedere ai suoi tempi per il resto siamo a completa disposizione per qualsiasi domanda o curiosità e poi la presentazione, questa qui, verrà messa online per cui per chi vuole avere gli approfondimenti potrà sempre rivederla Bene A questo punto possiamo salutarci, vi ringrazio Grazie Buona continuazione Grazie a tutti Arrivederci